C'è stato un momento nella mia vita in cui ho avuto bisogno di cambiare lavoro. Nel 2009 ero in disoccupazione, in mobilità. Siccome oggi non è facile poter creare un'impresa e trovare i fondi, cercando un po' su internet ho trovato un finanziamento di 2.500 euro. Nel 2008 ho vinto la Borsa Fulbright finanziata appunto dal Fondo della Regione Toscana. Grazie al voucher della Comunità Europea ho potuto farmi una nuova formazione. La mia attività è quella di creare delle opportunità, stimolare delle curiosità, perché le persone possano riprendere un percorso. Siamo riusciti ad approfondire le nostre capacità formative. Questo corso mi ha permesso davvero di fare un salto in avanti nella mia vita. Grazie al Fondo Sociale Europeo abbiamo preso il finanziamento per la creazione della nostra impresa. C'è un po' di crisi ma sta andando molto bene. Grazie al Fondo Sociale Europeo anche in carcere si può parlare di futuro. Questa esperienza mi ha davvero cambiato la vita. Questo grazie al Fondo Sociale Europeo e la Regione Toscana. Sta a noi poi metterci un grande entusiasmo e la voglia di fare. Grazie al Fondo Sociale Europeo.